Ciao a tutti, sono Sissi, bentornati sul canale per la recensione della 2x9 di World Beyond, The Walking Dead, World Beyond, episodio intitolato Death and the Death, morte e i morti. Prima di incominciare con la recensione dell'episodio, come al solito facciamo la tiritera delle iscrizioni, quindi propaganda canale. Se siete qui e non siete ancora iscritti al canale, male, vi chiedo di iscrivervi perché per questo 2021 che ormai sta giungendo al termine, l'obiettivo è sempre lo stesso, quello di arrivare ai 1000 iscritti, perciò anche la vostra iscrizione mi può aiutare. Quindi se non siete ancora iscritti, per favore iscrivetevi, lasciatemi ovviamente un like di supporto e sentiamoci qua sotto nei commenti perché la conversazione va sempre avanti sotto nei commenti, mi fa sempre piacere parlare con voi, non vedo l'ora di sapere che cosa ne pensate dell'episodio e di tutta la storia, quindi per questo che ho creato il canale, per parlare con voi, quindi ci sentiamo qua sotto nei commenti. Se poi non ne avete ancora abbastanza di me, qua sotto nell'info box trovate il link per il mio secondo canale dove faccio altri contenuti, però mi fa molto piacere se passate a trovarmi, fate l'iscrizione anche lì, così facciamo crescere anche il mio secondo canale, potete invitare la vostra mamma, le vostre sorelle, le vostre fidanzate anche sul mio secondo canale perché io sono simpaticissima ovviamente. Bene, date importanti, The Walking Dead ritorna a febbraio, 20 febbraio data americana, 21 febbraio data italiana, quindi ricominceremo a febbraio con The Walking Dead. Per quanto riguarda World Beyond e Fear, finiamo con la settimana prossima perché Fear c'è il finale di metà stagione, quindi la 7x8 perché sono 16 puntate, quindi la 7x8 sarà la prossima settimana e anche con World Beyond finiamo completamente con questa serie e la settimana prossima con l'episodio numero 10, episodio che io non ho ancora visto perché non voglio intaccare la recensione e poi siete tutti quanti terrorizzati dai miei spoiler, vedo in base ai vostri commenti, tra parentesi randellone, lo so io che siete terrorizzati dai vostri commenti, quindi evito di guardare la puntata in anteprima, però ho avuto sui social degli spoiler sulla prossima puntata e sicuramente nella prossima settimana avremo tantissimo di cui parlare, si apriranno nuovi scenari sia con Fear sia con World Beyond, sicuramente parlo per Fear ma anche per lo spoiler di World Beyond, si apriranno nuovi scenari e ci sarà tanto da discutere sul futuro di The Walking Dead e su tutte le teorie, su tutte le cose che succederanno più avanti, quindi la settimana prossima sarà un video credo abbastanza importante, vedrò poi se prima di Natale o comunque prima di Febbraio fare un video un po' riepilogativo dove parliamo di tirare insieme tutte le somme, quindi vedremo. Comunque finiamo martedì prossimo con Fear, giovedì prossimo con World Beyond e poi non è che sparisco per sempre, ovviamente non ci saranno più due video a settimana sul canale, ma cercherò di essere presente facendo dei video magari dove vi consiglio delle serie TV o dove parliamo di quello che sto guardando al momento, oppure parliamo di argomenti di The Walking Dead, eccetera. Poi ovviamente il giorno di Natale ci saranno gli auguri di Natale, quindi non sparisco per sempre, comunque mi trovate sempre attiva sul mio secondo canale se vi manco così tanto. Va bene, incominciamo con questo episodio che non è altro che lo svilupparsi del piano di cui abbiamo parlato la scorsa volta. Penso che la ciccia del finale sarà appunto la prossima settimana. In questo episodio c'è stato un momento in cui io ho sbragato, ho fatto la ola, il mio momento preferito di tutto l'episodio, lo saprete anche voi qual è, è quando Mason, una cosa giusta l'ha fatta il caro Mason, ha dato una testata ad Iris. C'è lì proprio Mason, hai vinto tutto, facciamoti una statua, una statua per Mason. E parlando di statue, quando c'è stato il pezzo dove Silas il metallaro e il caro Elton sono scappati dal centro di ricerca dentro, come i cricettini, dentro nella palla del mondo, insomma, anche lì ho avuto un déjà vu, ho avuto un rimando ancora per l'ennesima volta a Z Nation, perché c'è una puntata in Z Nation, per chi non sa che cos'è Z Nation, Z Nation è una serie tv zombie trash che andava in onda, mi sembra, su sci-fi. Comunque è una serie zombie in chiave molto trash. E praticamente in un episodio di Z Nation, chi l'ha visto me lo può anche confermare, c'è praticamente i protagonisti che arrivano in questo paese, che è un paese che mi sembra che è famoso per la sagra del formaggio, e c'è a un certo punto questa forma di formaggio gigantesca, praticamente grande come la palla del mondo lì degli artisti, che rotola giù per la via in mezzo al paese e rotolando schiaccia gli zombie. E quindi in quel momento di Silas ed Elton dentro nella palla come dei cricettini, mi è venuto in mente, c'è, déjà vu a Z Nation, va bene. Allora, concentriamoci su questo episodio. Che cosa è successo? Praticamente hanno il nostro gruppo, i Bennett, insomma, sono riusciti a depistare la nostra cara Jedis per la questione dei tunnel. Perché? Cos'hanno fatto? Sotto nei tunnel ci hanno mandato gli zombie, quelli lì che erano lì legati per le ricerche, gli hanno messo anche attaccato il sensore radiocomandato appunto dalla Nintendo Switch, ok? No, non è la Nintendo Switch, però secondo me ci assomiglia. Radiocomandati, insomma, quindi loro potevano vedere in che punto fossero gli zombie e poi farli saltare, farli esplodere con della carica esplosiva, così da fermare l'esercito, depistarlo e loro fare la loro richiesta. Praticamente la richiesta è abbiamo Mason in ostaggio, fateci arrivare dei mezzi di trasporto per andare via. come nel più scadente film dove richiedono di scappare con gli ostaggi, ovviamente, no? Jedis dice, sì, bene, no? E niente, quindi fanno arrivare dei mezzi, Felix va a controllare, vanno via una parte, quindi il dottor Bennett con gli scienziati, Iris Hope, Compagnia Bella, Felix, eccetera, rimangono lì, Felix e Hope vanno per piazzare la carica e distruggere il gas, ma non lo trovano. Che cosa trovano? Zombie scongelati, ma con la testa ancora un po' congelata. Lì è stato bello quando Felix ha praticamente schiacciato la testa allo zombie con il piede e la testa esplosa. E qui hanno trovato anche la dottoressa Lila zombificata e Hope l'ha uccisa. Hope che, come al solito, sta passando un brutto periodo, nel senso che ha tipo, come si dice, il disturbo post-traumatico, ha tipo un disturbo post-traumatico dove ha dei rimorsi, insomma, di tutto quello che è successo, perché lei è l'unica, più di tutti gli altri, che ha visto un po' il mondo lì di fuori e ha visto il mondo lì all'interno e quindi dice, adesso stiamo distruggendo tutto, come ha detto Jedis, che di Atea Oppo, come è il mondo fuori, voi siete cresciuti nella bambaggia, siete praticamente stati viziati dall'inizio della vostra vita. Io che arrivo dalla discarica, praticamente, cioè, veramente dalla discarica che ne ho viste di tutte e di più, voi non sapete che cosa c'è lì fuori. Noi facciamo esperimenti, in nome della scienza, gli alleati erano diventati delle palle al piede, praticamente già due anni prima la CR aveva fatto un'indagine dove OMA, il campus dell'università e Portland non sarebbero mai stati autosufficienti, avrebbero gravato sulle spalle della CR in modo molto pesante, quindi tutto questo piano parte da lì, insomma, che loro erano alleati, ma di seconda classe, di seconda categoria, non sarebbero mai stati all'altezza della CR, quindi bene, utilizziamoli per il bene di tutti quanti, utilizziamoli per il bene di tutti quanti e quindi così è stato, E alla fine, praticamente, quando cercano di andare via e qui, stiamo perdendo luce? Vediamo se riesco a... Mi sa che stiamo perdendo luce, ma non fa niente, andiamo avanti. Quando stanno per andare via, niente, praticamente, sono lì davanti alle jeep che parlano, bellissima anche la scena quando parlano con i walkie, ovviamente Jedis, come al solito, in questa puntata, eccelle, non riesco a inquadrarmi bene, sono a fuoco, spero di sì, comunque seguite il disco, non guardate me, seguite quello che ho da dire, Jedis, come al solito, una spanna sopra gli altri, e anche in questo episodio ho avuto dei bellissimi dialoghi, bellissime linee di recitazione e qui, mentre stavano per andare via, che è successo tutto il patatrack, perché tra l'altro stavano arrivando anche tutta l'orda di zombie che il caro Silas, il metallaro patatone e Elton hanno portato dal centro di abbattimento, centro di abbattimento dove abbiamo lasciato Dennis ferito, i ragazzi sono riusciti a estrarre il proiettile, ma ovviamente, sicuramente si è infettato e mancavano gli antibiotici, mancavano gli antibiotici, Elton e Silas hanno portato l'orda verso il centro di ricerca e prima di arrivare al rendezvous si sono fermati appunto al centro di ricerca per prendere gli antibiotici per Dennis e lì sono scappati poi con la ruotina, con il mondo, dentro nel mondo. Io qui non ho capito se Dennis è morto o no, perché la nostra cara hack, cioè cara mia, tu con tutto il bene che ti voglio, recitazione zero, ormai lo sappiamo, non si è capito se alla fine, perché morire non si è visto morire, però lei è andata a salutarlo, poi è uscita tutta in lacrime e aveva la fede dentro nella collanina, io non so se gli è morto tra le braccia o era disperata perché comunque l'ha lasciato lì cioè in fin di vita che stava male, insomma, nel senso, io spero, adesso non ho ancora visto la prossima puntata, spero proprio che Dennis non sia morto e che sia solamente hack che ha una recitazione di M, ok? torniamo al fatto di Jedis che è lì che praticamente ha bloccato il gruppo prima che andasse via, non i Bennett e gli scienziati che sono già per strada, ma i ragazzi, insomma, succede, arrivano gli zombie, succede il patatrack, Mason tira una bella testata ad Iris che è stato il punto più alto della puntata, praticamente la scena migliore e qui praticamente Hack è costretta a puntare la pistola contro Jedis e a rivelare il fatto che sta dalla parte degli altri, Jedis la guarda e dice, aveva ragione tua madre, ok, quindi se ne vanno tutti, Persi cade morto, ferito di guerra e qui tra l'altro c'è Iris, c'è Hack gli abbiamo dato zero in recitazione ma anche Iris non si è messa a piangere ovviamente perché Persi era il suo amato eccetera e qui di là ma c'è così che la faccio ah 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 così di pianto cioè io faccio meglio cioè prendete me prendete nel prossimo nella prossima serie zombie mi volete vedere cioè se c'è anche qualche produzione italiana contattatemi che io mi presto per recitare sicuramente farei un po' meglio di Iris vabbè vabbè non voglio essere arrogante però vabbè comunque Persi muore quelli riescono a scappare Jedis gli lascia 5-10 minuti di tregua ad Hack per scappare che abbiamo visto che va da Dennis a dargli il saluto e qui poi lì vicino al campo di abbattimento trova il gas stoccato che avevano spostato dal centro di ricerca quindi contatta gli altri alla radio avete ancora gli esplosivi raggiungetemi insomma che facciamo saltare in aria tutto quanto una bella esplosione di gas di cloro mentre gli altri che cosa succede si sono trovati a rendezvous ma il dottor Bennett con gli scienziati non ci sono hanno avuto dei problemi lungo la strada e Felix è andato a piedi verso questi scienziati e poi finisce con Jedis che parla con il maggiore Bill che tra l'altro gli è entrata nelle grazie nella manica fin dentro la scella avendo salvato il figlio Mason e stanno mandando dell'esercito in supporto e praticamente il maggiore Bill dà la sua fiducia Jedis Jedis tra l'altro dice mi dispiace che sono arrivata così tardi potevo arrivare prima a mettere a posto questo casino grazie per la fiducia non la deluderò dunque che cosa succederà a questi scienziati io mi aspetto ok che la serie finisce la settimana prossima quindi abbiamo solo un episodio mi aspettavo che arrivasse Felix arrivassero gli altri e gli scienziati già non ci fossero più portati via dalla CRM magari può essere così magari vengono comunque gli scienziati perché comunque gli scienziati sono soli il gruppo dei ragazzi è il gruppo dei ragazzi quindi non c'è nessuno del gruppo dei ragazzi con il dottor Bennett e tutti gli altri scienziati quindi ci potrebbe stare che arriva la CRM dicono bene gli scienziati sono tutti qua prendiamoli portiamoli via ok e quindi io mi aspetto facciamo un po' di conspiracy theory un po' di previsioni un po' di teorie io mi aspetto che arrivi la CRM si porti via tutti gli scienziati arrivi Felix e non riesca a fare niente insomma e però che riescano a far saltare in aria almeno il gas e mi aspetto anche che Dennis sia ancora vivo cioè lo voglio sperare che Dennis sia ancora vivo e niente quindi questo è quanto io so che nella prossima puntata ci sarà una cosa importante dopo i titoli di coda io non ho ancora visto la puntata come dicevo prima però stamattina quando io ho aperto i social no gli altri giorni scorsi quando io ho aperto i social sono stata bombardata perché ovviamente io sono iscritta a tutte le pagine di The Walking Dead anche su Youtube eccetera seguo canali americani dove fanno recensioni teorie eccetera di The Walking Dead e tutti gli spin off e sono stata bombardata di questo spoiler insomma di questo spoiler di qualcosa che succederà dopo i titoli di coda della prossima puntata della fine quindi avremo una bomba di informazione dopo i titoli di coda e da qui sì praticamente da qui avremo informazioni importanti su quello che sarà il futuro di The Walking Dead i film di Rick nuove teorie nuovi nuovi pensieri per quelli che come me di notte non dormono e pensano The Walking Dead questa è la mia vita bene quindi noi ci vediamo la settimana prossima con martedì il finale di metà stagione di FIAR la 7x8 e il giovedì il finale 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 di World Beyond finale per sempre di World Beyond noi ovviamente sentiamoci nei commenti scrivetemi qua sotto tutto quello che pensate della puntata e di come si andrà avanti e lasciatemi like di supporto iscrivetevi se non siete ancora iscritti io vi bacio e vado a fare la merenda perché è tutto il pomeriggio che sto registrando quindi ci vediamo settimana prossima e niente vi bacio ciao ciao